Dopo giorni di silenzio Grillo prende posizione e si schiera con i vigili. Ai loro danni accusa una vera e propria strategia di accadimento mediatico. Due, secondo il leader 5 Stelle, gli obiettivi di sogliere l'attenzione dalla vicenda mafia capitale e criminalizzare una categoria per giustificare misure più restrittive nel pubblico impiego. Il blog ospita anche la versione di un vigile di nome David sui fatti di Capodanno. Sui assenteisti, numeri gonfiati per estendere il Jobs Act attacca Grillo che poi lancia l'hashtag Forza Vigili. Questa volta però sono tante le critiche sul blog, da nessuna giustificazione per i fanulloni alla domanda di un attivista Grillo, ma cosa ti succede? Il leader 5 Stelle si schiera con i finti malati, affondano intanto dal PD e solo in cerca di visibilità rincara Forza Italia. Ma dall'opposizione non tutti criticano Grillo. Quello sui vigili osservano dalla Lega è un polverone. Poi, se qualcuno ha sbagliato, è giusto che paghi.